Sarà una serata l'insegna dell'amicizia, della fiducia, della condivisione quella che si terrà giovedì 30 settembre a Sorso nell'ambito del progetto a scuola per mare selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile con il patrocinio del comune. In piazza Garibaldi i ladri di carrozzelle si esibiranno alle 10.30 in un live riservato alle scuole del territorio mentre alle 20.30 inizierà il concerto aperto a tutta la popolazione. Alla giornata parteciperanno anche i sette ragazzi che stanno prendendo parte all'esperienza degli 85 giorni di navigazione a bordo di una barca a vela che si trasforma in casa, scuola e palestra educativa. L'amministrazione comunale di Sorso ha accolto con interesse il progetto a scuola per mare e ha aderito all'iniziativa di sensibilizzazione, promozione e di linee di intervento che si rivolge a tutta la nostra comunità con uno sguardo particolare ai nostri giovani e giovanissimi, ha sottolineato l'assessore della cultura e istruzione Marcella Spanu. In un momento così complesso una delle prime azioni proposte, il concerto del gruppo Ladri di Carrozzelle vuole dare risalto alle tematiche delle pari opportunità, della valorizzazione dei talenti e delle diversità, dell'integrazione. Abbiamo coinvolto la scuola, le forze dell'ordine del territorio, le associazioni sportive, sociali e culturali perché riteniamo che solo unendo gli intenti e lavorando insieme sia possibile agire al meglio per il bene comune.